La fase 2 sembra essere sempre più vicina e per quanto riguarda il nostro territorio sembra che la situazione sia sempre più stabile, con i casi di Covid-19 che vedono un aumento minimo e con varie guarigioni. Nel Vallo di Diano c'è da riportare solo un nuovo caso relativo a Sala Consilina. Si tratta di una donna già in isolamento domiciliare per essere stata in contatto con persone risultate positive al coronavirus, come tutti gli ultimi casi registrati nel comprensorio valdianese. Con questo nuovo caso il Vallo di Diano raggiunge i 151 contagi con 15 decessi. Nel Cilento non vengono registrati i casi di coronavirus dallo scorso 17 aprile con il ventitresimo caso di Agropoli, città che è in attesa dei risultati di 5 tamponi relativi agli ultimi due contagi riscontrati nel centro occidentano. Il totale di 23 casi ad Agropoli, compresi 3 decessi e 3 guarigioni, 4 a Vallo della Lucania, 3 a Casalvelino, 2 a Sessa Cilento e Vibonati, 1 a Laurino, 1 a San Mauro Labruca, 1 a Capaccio Pestum e 1 a Monte Corrice.